Allora siamo col mister Dostiglio dell'Atletico Cugnoli. Mister, sull' difficile campo del Farindola, una partita farraginosa, un punto guadagnato o due punti persi? Un punto giusto, perché il Farindola è una bella squadra, bellissima squadra che l'anno scorso partecipava alla seconda categoria e per me è un punto giusto, una partita giusta. Qualche rammarico su qualche episodio? No, è rammarico solo perché eravamo in vantaggio e ci hanno raggiunto a sei minuti dalla fine, ma perfetto, sono contento del risultato e del gruppo che va sempre avanti. I cambi sono stati azzeccati? Anche i cambi, come sempre, ognuno, abbiamo due per ogni ruolo, quindi non mi creano problemi assolutamente, assolutamente. Ora pensiamo a domenica e al Caramanico. Scontro diretto col Caramanico, in vetta. Ecco, lì voglio qualcosa in più, a livello di più, a livello di tutto bene. D'accordo, un saluto da Trelico Channel, a voi la linea studio. Grazie. 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 Grazie.